Musica 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 Matteo nell'ultima partita contro il campo basket hai fatto un'altra prova eccellente Ma si dai diciamo che hai coinciso con la buona prova della squadra e quindi sono stato doppiamente felice del risultato e questo è un buon segnale verso gli impegni futuri che ci attendono Questo è un campionato molto equilibrato, ci sono 5 squadre a 12 punti, come vi state preparando per il prossimo match? Ma si, il campionato è sicuramente equilibrato, dobbiamo tenere sempre la tensione elevata perché contro di noi chiaramente ci tengono tutti a fare bella figura quindi dobbiamo cercare di mantenere l'intensità alta e cercare di portare a casa sempre i due punti Sicuramente adesso abbiamo una partita impegnativa in casa poi abbiamo una pausa chiaramente anche per lavorare di più qui al palazzetto sia come palacanesto che fisicamente e poi ci aspetterà sicuramente prima di Natale una una bella salita da da scalare piano piano e sperando che ci porti i risultati per cui stiamo lavorando Questo è un campionato molto equilibrato dopo l'ultima giornata ci sono 5 squadre a 12 punti e c'è poi però anche la stessa campo basso dove siamo stati domenica è una squadra diciamo di medio livello non fa parte della prima fascia però comunque le partite in casa se le gioca e sicuramente le squadre faranno fatica a vincere su quel campo la prossima domenica il penta sarà atteso dalla sfida contro il Maccabi Ripalimosani come state preparando questo incontro soprattutto che squadra è il Maccabi Ripalimosani da quello che so a Cannavina che è un giocatore di esperienza un lungo e poi di Cesare che è la bandiera del Ripalimosani praticamente è un uno squadra che organizza anche a livello societario e poi ha un gruppo nutrito di giovani locali e quindi una squadra diciamo aggressiva veloce come nella caratteristica di questa compagina alla prossima